Time out di Daniele Santamaria Maurizio, Marco e Imperiali. E allora ci siamo divertiti oggi Marco, le tue impressioni? Eh sì, oggi è stata una bella partita, un bel primo tempo, anche un secondo tempo diciamo abbastanza combattuto e finalmente ce l'abbiamo fatta vincere. No, no, non è stata fortuna, è stata bravura. No, è stata bravura. È stata bravura, ecco, le tue impressioni caro Carlo? Eh, è la stessa cosa, oggi siamo stati veramente, abbiamo giocato da squadra. Oggi abbiamo giocato da squadra, dobbiamo continuare in questo modo. In questo modo, è una cosa bella che si è sboccato Boaci, Boaci hanno segnato i due attaccanti, e quello è importante. Boaci è da così che comunque potrebbero essere i gemelli del gol di questo Latina, targato 2016-2017. Un grande pinzoglio abbiamo avuto e anche un grande Marika. Ecco, l'asso nella matica è stato appunto Marika, Marika prima e Pinzoglio dopo. Pinzoglio ci ha salvato quei due o tre gol che potevano entrare. Potevano entrare anche, come abbiamo fatto il primo gol sub dell'azione a pieno, hanno fatto quella paratona. Finalmente si è riscattato, ecco, si è riscattato dagli errori. Ed eccoci qui con Susanna. Susanna, la domanda è questa. Il Latina ha giocato bene, il Latina ha ridotto ai minimi termini quello che è la difesa del Trapani, che comunque resta una bella squadra. Assolutamente sì. E la gioia nostra è proprio questa, che abbiamo vinto contro una bella squadra, assolutamente. Hanno messo l'anima i giocatori del Trapani, complimenti veramente. Però in Latina di oggi non ce n'era per nessuno. Non ce n'era per nessuno, Salvatore. Siamo stati veramente grandi. Grandi e direttori. Dobbiamo continuare così. E dobbiamo continuare così. Da qui si riparte. Ecco, da qui si riparte e da qui cominciano i sogni. Perché i pontini sono così. Si vince e si sogna, si perde e si continua a sognare. A sognare, sempre. Perché questo è il nostro motto. Esatto. D'altra parte... La nostra cosa è sempre la salvezza, perché dobbiamo mantenere la categoria. Certo. Poi, se riusciamo a fare anche playoff, non è dire. Saremo sempre qui. Ma il nostro sogno... Sempre vicino ai nostri undici leoni. Il nostro sogno è proprio quello di preservare la Serie B. Perché per Latina, per Latina, signori, la Serie B è il massimo. È il massimo. È il massimo. Quindi... Forza Latina. Sempre forza Latina. Grazie. E da oggi si riparte, Salvatore. Si riparte alla grande. Buona giornata. Grazie e buona serata. Ciao.